Dal tradizionale chiudere il portone, non lasciare le chiavi sotto lo zerbino, ai simboli vicino al citofono lasciati nelle perlustrazioni, passando per i social network, dove non è il caso di annunciare assenze prolungate. In un generale calo dei reati, nella riminese i furti in abitazione sono invece in incremento del 7%. I carabinieri assicurano il massimo impegno, ma chiedono ai cittadini, con un opuscolo che sarà distribuito a larga scala, di essere meno collaborativi con i ladri. C'è chi lascia la chiave nella toppa, chi lascia la macchina aperta con il telecomando del cancello automatico e le chiavi inserite nel quadro, quindi costoro, senza fare infrazione, riescono con molta facilità e in pochissimo tempo, sappiamo che un furto in abitazione non dura più due minuti, a riuscire a mettere a segno un colpo perché hanno fatto leva su queste leggerezze delle persone comuni. Abbiamo deciso di creare questo piccolo vademecum, che è una serie di consigli semplici e di buon senso, con cui chiediamo alle persone nel dubbio di chiamarci e comunque di adottare dei piccoli accorgimenti a costo praticamente zero, quindi attivare il collegamento con le nostre centrali operative, di parlare col vicino quando si assentano, in modo da fargli recuperare la corrispondenza, oppure di dare subito l'allarme se dovesse avvenire una situazione anomala, non lasciare avvisi sui propri bacheche o post sui social network in cui si dice a chiunque, quindi in maniera visibile, che per un certo periodo di tempo si sarà fuori casa. Se ci siamo andati da casa nel pomeriggio o anche per piccole compere di mezz'ora o un'ora, inserite comunque l'antifurto, non affidarsi al fatto, vabbè, tanto torno subito perché quella piccola leggerezza spesso può costare caro.